Ciao amici siamo Mettebise, Mettebise e benvenuti oggi in questa nuova sfida estiva E' arrivata l'estate, qual è la cosa tipica dell'estate? Il gelato, sei pronto a fare una super sfida in cui mangeremo del gelato? Ma che challenge è col gelato? Il gelato, tu sei abituato a mangiare del gelato buono, a gusto pistacchio, crema, mandorla Invece oggi andremo ad aggiungere degli ingredienti un po' particolari che sono all'interno di questo bichetto Tipo la pizza challenge Brava, esattamente Gli ingredienti chi li ha scelti? Io A posto siamo Bene Vabbè, ma fidati, ti posso garantire che comunque ci saranno dei ingredienti Va bene, io non ho paura, sono una persona coraggiosa, mettete like ragazzi subito Andate a vedere anche gli altri video estivi che sono usciti sul canale Che stiamo combinando, che stiamo facendo sul canale Iniziamo questa sfida fantastica Sigla Vale Ok ragazzi, noi siamo pronti, abbiamo il gelato nel piatto, adesso non ci resta che pescare un bichettino E la sorte ci dirà che cosa andremo incontro Il gelato era solo al gusto nocciola Vabbè, a me piace il gusto nocciola E voi nei commenti scrivete giusto per curiosità così Qual è il vostro gusto preferito ragazzi Io non lo so, bior di latte Vai iniziamo, basta Vado Guarda quale ciance Va bene Vai Al mio tre lo apriamo lo leggiamo insieme Ok vai vai ci sto Uno, due, tre Omogenizzato manzo Cibo per cani Oh, si inizia proprio così Subito Hai da poco da lamentarti io il cibo per cani Sono proprio curioso di mangiare Anch'io, sono proprio curioso È una vita che non mangio l'omogenizzato Mamma mia Che buono, cavolo Omogenizzatino dei bambini che c'è scritto da quattro mesi Buon appetito Buon appetito Ma butta giù, ma che uomo sei? Se sei un uomo, se sei un uomo lo butta Commento adesso, Matt non sei un uomo Che schifo Mangiala tutto Ma no, io ho mangiato il mio Ho rispettato le cose Ma non si può fare Andiamo alla seconda Pasch Le patatine Io ho preso omogenizzato al cocino Ma tu l'hai appena assaggiato e mi hai detto che non era il massimo Io direi di provare le patatine e l'hamburger da McDonald's No? Non sei d'accordo con me? Ma tu vuoi mettere il gelato dentro l'hamburger? Ecco Il nostro hamburger? Vai Gelato e hamburger del McDonald's Momento chiusura Aspetta Regia Musica Mangiamo A me piace Beh Hai presente che al Mac c'è il menù bastianici no? Io farei il menù Mette in vise Panino gelato hamburger Lo proponiamo McDonald's Se vuoi iscriverci in contatto Noi ci siamo Lasciamo l'hamburger per qualche secondo Lo andremo a finire dopo Solamente per provare le patatine fritte dal McDonald's Non con la maionese Non col ketchup Non con la salsa barbecue Non con la mostarda Ma Con il gelato Così proprio Ah impucci proprio Mh Di quello che Questo Non è il mafio Non è fantastico Bene Provosto il panino dal Mac Un po' bocciato Andiamo avanti No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè sto volando Sono su Marte Chipster Su Guala Amatriciana Raghi L'avete fatto veramente Su Guala Amatriciana Ve lo giuro Vabbè Ah l'ho comprato io Ah Raga Raga Ah ok Ti giuro che lì Non c'è nessuno E stava parlando da solo Se ne metto come se stesse nevicando Tu anche come se stesse nevicando No Scusa Dai la maglia bianca E' fatta apposta per svolcarla Non lo so Facciamo un mix Oh my god Ragazzi Comunque Potrebbe uscire fuori un ingres... Niente pazzesco Com'è? Era un no Provo io Mamma mia Vuoi provare? Com'è? Fa schifo eh Voto 3 Voto 6 No ogni tanto diamo i voti Quando ci ricordiamo eh Bene andiamo avanti Chissà che cosa ci riserverà In futuro Forse questa sta diventando Una delle sfide più belle Del nostro canale Anche perché avevamo fatto La pizza challenge Che se vi siete persi La trovate in scheda Un più o meno con la stessa tipologia Pizza Abbiamo aggiunto delle cose Ma stavolta Gerardo sai che non mi sta dispiacendo Neanche a me Ceci Radicchio No a me non piace Neanche a me Allora andiamo No a noi non piace il radicchio Non ci piace Non lo mangia Grazie Siamo tornati ragazzi Abbiamo deciso di tornare Per la patria Per il canale Per lo stato Per l'Italia Che fai con i miei ceci Vai di mettere le tue mani sporche Le mie ceci Bella Mi ha deciso di questo Ah Ok proviamoli col gelato Vai Ci metto anche un tarallo Proviamo Testiamo Il mio non sa di niente Sta solo di gelato alla nocciola Provalo Botto 11 Vabbè perché tu ti sei solo gelato alla nocciola A me non ne hai stessuto il tarallo No non lo voglio Se non lo voglio Non lo voglio Andiamo avanti Andiamo avanti Non lo vedo bene la situazione No Il mio è top Il mio è top Wow Tra l'altro a me piace A lui già di base non piace Il mix sarà pazzesco E ricorderà anche quello dei cani Perché gli è uscita la Simmental La Simmental Mi piace quella Simmental è gelato alla nocciola Contro gelato alla nocciola E' attuta Ti ricordi la canzone di My Cyrus I came here like a rainbow Vabbè andiamo avanti Te l'apro io Ho solo l'1,5% di grassi Ma Aggiungeremo il gelato Quindi vado Dai mangiala Matteo Il problema non è Il problema non è Il problema Il problema è toticamente un problema Il problema non è E' a film E' a film Buon C'è ancora dei ceci Come è? Ma ha lo stesso sapore del cibo per caccia Ma fai provare per favore Prego Prego Oggi mi sento proprio coraggioso Proprio voglia di scoprire cose nella vita Che buono A me piace un po' Evidentemente è stato un ricordo Della tua infanzia Ciao Ciao Il video finisce qui No Il video continua ancora qua Ne vedo pochi Mi sono messo di male La Simmental Con il gelato Ciao Ciao Reazione Crevica Allerga Vieni te l'ho preso io Perché l'hai preso tu per me Perché Ok l'hai preso tu per me Prendi il tuo Change Ok No Changeiamo no 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 Cos'è? Cipolla Eh io l'avevo Avevi detto Change Quella non è salsa agrodolce Raga Ho detto Change Quella non è Con chi parli? Mangia di una cipolla Se sei un uomo Adesso se siete arrivati a questo punto del video Matt non sei degno Va bene Va bene Va bene E la salsa agrodolce di per sé Che cos'è? Te lo dico subito È una salsa agrodolce al mango piccante Piccante Eh Un po' agro Un po' dolce Io non lo sapevo Perché io? Pucciola Sì così Sì Che schifo Ma hai visto cosa ho appena fatto? Io ho assaggiato questa Fa schifo Eh Vuoi vedere mangiare una cipolla Ragazzi avrò un alito per una settimana Cipolla è stato l'unico ingrediente che ha coperto il gelato Si sente solo la cipolla Eh la cipolla è fortunato Può provare a mettere tra sotto gli occhi Vediamo se piangi C'è questa leggera Vai proviamo Dai proviamo raga Secondo poi piangerà Ti prego anche se non piangi perfino Ah va bene Ok Ci funziona La cipolla ti fa anche rattristire Cioè non è solo la Vabbè Com'era? Passiamo all'ultimo Passiamo All'ultimo All'ultimo Fermi tutti Dobbiamo ricoverarti in ospedale No Farò l'ultima manche così Ok ragazzi Ultimi due bigliettini Vedo qua Quindi Meno male Meno male Questa sfida Io sto ancora un po' piangendo Quindi se siete arrivati a questo punto del video Per capire Commentate scrivendo Vise non piangere Mai più Vise non piangere Va bene Ultimi bigliettini No dai Perché io Secondo voi Com'è il sapore del gelato alla nocciola Con il tonno E con le sardine piccanti Sardine piccanti Secondo me il tonno Ma il tonno alla nocciola Sta bene con tutto Si si Con il gelato alla nocciola sicuramente Ebbene mettiamo Che schifo Cosa che schifo Col olio piccante L'engeno Questa qua fa schifo Ah bella così Bravissimo Adesso vado anch'io 3 2 1 A go Dove vi andare? Lo riparto Fammi l'ago così 3 2 1 Per me è buono quello Io rispetto Madonna Questo fa schifo Per me questo è proprio un no E un no non ci piace La sensazione di pesce E gelato E atonca Mi mangiate Mamma mia Miserico Mi è arrivato pure il piccante Oh Oh se brucia Io manco il gelato e il piccante Dammi questo Questo fa schifo pure questo Io ho capito ma è gelato senza piccante Ah Ah Adò quanto bruciava Bravi Bravi Un grande applauso Mettebise Facciamoci un applauso Un grande applauso Per il coraggio Se invece voi volete fare Un applauso a noi Come lo devono fare Mettendo un bel like Così capiamo che il video vi è piaciuto E continuano a piacere In questi video estivi Che stiamo facendo Quindi passate sul canale E andate a vedere Tutti gli altri video estivi Noi ringraziamo L'Aquatica Park Per averci permesso Di essere qua Oggi Ieri E anche Domani Seguiteci su Iseam Balevisa E Matteo Pelusi Per vivere tutte le nostre avventure Ciao amici Ciao amici